come ora quando passi dalla villa io ti faccio così con la mano vai piano Giacomo la guardi la guardi vieni piano piano dietro vai piano dai che saluta la Bernardina con le note musicali vai riprendi che c'è l'aereo che si vede e l'uscita poi quando passiamo di qua la poliziotta che ci vuole qui gira di un attimo no si che la figlia tra un po' tra quanti anni ha già 19 anni adesso tra 6 anni prende tutto il suo moglie si si l'aveva piantata proprio un anno prima questo cos'è il grus di Elvis? l'altro che cazzo senta si può spostare che c'è la villa di Elvis ah si scusa ma la villa di Elvis quella lì dove c'è scritto zucchero da questa parte ah eccolo si 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 solamente che adesso cosa dici non è una bella idea pubblicitaria com'è l'idea com'è? usiamo un clisterio per la stitichezza sai quelle cose così con il zucchero che va su e giù con l'acqua calda invece del... eh? bella idea bella idea bella idea Grazie.